E' più indietro! E' più indietro! Alla partenza Pierangelo Borromeo Colletti, ultimo cani di categoria! Non lo so! Come si chiude? Un tavolo! Si no, ma è una roba muscolare, non c'entra un cazzo! Come si chiude? Che cazzo ne so! Non lo so perché... E' un Asus figure! Non ne ho idea! Chiudilo un po'! E' più indietro! E' più indietro! E' più indietro!